Le ultime abbondanti piogge hanno causato danni al pavimento in legno del palazzetto di San Nicolo a Tordino a Teramo, un problema ricorrente ogni volta che si verificano forti precipitazioni. L'acqua che si infiltra dal tetto ha nuovamente danneggiato il parquet rendendolo inutilizzabile. Questo inconveniente si è ripetuto negli anni diverse volte, incluso l'ultimo episodio di domenica scorsa, quando le finali under 15 maschili di palla a mano per l'area 6 Abruzzo, Marche e Molise sono state annullate. Fin quando c'è solo un po' di pioggia possiamo raccogliere e pulire, però non esiste, sta diventando una barzelletta, non è possibile che noi il sabato prima della partita, dobbiamo anche ringraziare che è finito il campionato, perché altrimenti ci saltavano anche altre partite. In questo periodo avevamo le finali under 15 maschili, un torneo promozionale, due eventi di ginnastica artistica, ha saltato tutto, non va bene. L'accaduto è riacceso le polemiche sulla manutenzione del palazzetto di proprietà comunale, che da anni riceve solo interventi provvisori in attesa di una ristrutturazione completa del tetto, che ancora non viene attuata, nonostante i fondi 350 mila euro ottenuti dall'amministrazione attraverso il fondo Sismaneve. Hanno messo sempre delle pezze, però è ora di fare un intervento serio sia al tetto che al parquet. Il parquet ha una durata ben o male di una ventina d'anni e il palazzetto è lì da 27, si deve cambiare. Chiaramente non si può cambiare prima il parquet se non si mette riparo al tetto. In ottobre, ottobre-novembre, mi sembra, è venuto un ingegnere dove sono stati stanziati per il comune dei soldi del PNRR. Dovevano partire i lavori a gennaio, siamo a giugno, ancora non se ne fa niente. Sta diventando una, ripeto, una barzelletta brutto dirlo, ma purtroppo è così. Il problema è che se non si interverrà a stretto giro il palazzetto non potrà essere messo a disposizione per diverse iniziative, tra cui la Coppa Interamnia in programma nel mese di luglio. Questo mese è saltato, abbiamo di solito la Coppa Interamnia che è un torneo importantissimo per la città di Teramo. Nel caso in cui dovesse piovere fuori perché sono i campi all'aperto si giocava sempre al palazzetto, ma a questo punto se piove fuori piove pure dentro, quindi non abbiamo fatto niente. L'Interamnia abbiamo un riscontro molto molto bello per quanto riguarda il torneo e presentarsi così non è sicuramente una bella cosa.